Visto lo studio che abbiamo fatto e quindi l'applicabilità a tutti gli edifici del dopoguerra. In base al contesto in cui ci troviamo possiamo scegliere se utilizzare un modulo oppure l'altro e quindi in questo caso ad esempio se il contesto è positivo usiamo un modulo che si apre verso l'esterno mentre se il contesto è negativo usiamo un modulo che si apre verso il patio interno. Il fatto che i ragazzi abbiano scelto di staccarsi con dei piloting dalla copertura stessa dà una grande flessibilità al progetto. In questo caso abbiamo usato appunto il legno per la parte dei nostri moduli e poi la connessione all'edificio vera e propria è rimandata all'acciaio. Abbiamo utilizzato lo zinco per rivestire tutte le pareti esterne perché è un materiale con ottime caratteristiche in quanto per esempio necessita di pochissima manutenzione e inoltre abbiamo utilizzato lo zinco in modo che dall'esterno quando si vede l'edificio esistente con la nuova costruzione in sommità si è chiara la distinzione. Poi il fatto dell'utilizzo dello zinco che sappiamo tutti è un materiale comunque riciclabile quindi nel tempo dà la possibilità di poter essere riutilizzato. Appunto nel nostro progetto sia per l'inserimento dei pannelli fotovoltaici che dei pannelli solari per l'approvvigionamento di acqua calda sanitaria abbiamo praticamente creato un abbiamo aumentato l'altezza delle pareti esterne della nostra costruzione andando a creare un parapetto e quindi impedendo la possibile vista e questo ammetterlo che può essere esportato ovunque ovunque ci sia un edificio che è in grado di essere sopraelevato e di reggere all'aumento delle masse. Attualmente non ne profite tutto semplicemente di tutto il n'a qu'une toiture terrasse plate e per venire coller un po' con il suo contexte è interessante di venire surelevere questo battimento, lo terminare e con una toitura in zinc. Qui viene ripondendo anche a il suo contexte di toitura tipica strasburgoese in ponte e con dei piccoli dettagli come le chiacchi assi di toitura strasburgoese o ancora le patio che riprendono la tipologia di cori interiore. Un battimento allemand, quindi in pierre blanche e ancora una volta nella definizione di questo qu'è un toit. In nostra scelta abbiamo questa coerenza con la faccia che s'exprime in un primo tempo e poi il toit che più in ritro s'efface dietro le balustrade. Quindi voglio restare in questo registro. Abbiamo deciso di scegliere tre proiecti perché sono proiecti che si sviluppano in una forma abbastanza differente. Credo che è il momento di spiegare se le città devono continuare a crescere o se una delle possibili strategie, anche per la rehabilitazione dei barri già costruiti nel anni 50 o 60, può essere incorporare, come appena il concorso, altre planti sui edifici che già existono. Noi eravamo attuare in le azoteche dei edifici e ci dava la facilità di che le azoteche stavano sempre a un livello abbastanza homogeneo. Per lo tanto, ci permette di attuare in una forma più continua per poter dare un uso e un carattere social e comunitario al conjunto di tutte le viviende che implantavamo. In primer lugar, il primo proiecto, per esempio, è un edificio che si desarrolla in una calle ancha. E quindi noi contiamo con il espacio che abbiamo in esa calle ancha per ampliare il proiecto e realizzare una fachata sobre il edificio preexistente. Il secondo proiecto, in cambio, è una calle estrella e in questa calle estrella lo che facciamo è retranqueare il nostro edificio construito, la nostra nuova arquitectura del proiecto, per evitare sombra e per favorecer espacios abiertos e comuni in la azotea del edificio. E poi, la nostra tercera proposta consiste nel lleno de los espacios vaciosti che quedano entre le medianeras quando noi costruimamo sobre un solar che si encuentra perimetralmente cubierto per edificiosti colindanti in altura. Pensiamo che sia molto favorabile tanto il uso di vegetazione tanto in invierno come in verano perché, mediante il uso di, per esempio, hoja caduca in seconda fachata che abbiamo in alcuni edifici permetteremo che in verano se cubra di la radiazione directa solar sobre il edificio e in invierno, in cambio, se mantiene il calor dentro del edificio. Al tratarsi di un catàlogo di possibili actuazioni non abbiamo calcolato con total definizione qual seria, per esempio, la quantità di placas fotovoltaicas o fotocolectores che si dovrebbero instalar però si che pretendiamo llegar almeno a la autosuficiencia energética. Generalmente, quando pensiamo in fare una estructura encima di un altro edificio pensiamo anche in ligerezza e in che fosse lo meno laborioso di cara a che hai vecinos che vivono alli e che vanno a tener che intervenire in su edificio. Quindi, per quanto riguarda il ruido, il peso e la facilità, ose, la proximità di madera anche, abbiamo deciso la madera perché pensavamo che era la migliore soluzione per il nostro edificio. Grazie al zinc e alla madera possiamo raggiungere la chimenea solare che ha un effetto che ci interessa abbastanza per il uso del nostro edificio. La qualità ambientale L'importanza della qualità ambientale dei progetti è stato veramente un dei axi maggiore di questo concetto puisqu'on m'a demandé di fare una pre-analyse dei dossi e di proposare al giro un gruppo che corrispondi ai migliori progetti in termini di qualità ambientale. Quindi i progetti che sono primi oggi rappresentano e facendo parte del gruppo che aveva ottenuto le migliore note in termini di qualità ambientale. Abbiamo contato la qualità dei casi con i risultati dell'introduzione delle caratteristiche del progetto in questa ferramenta. Abbiamo la qualità tecnica dell'envolvente e anche la relazione della luce a lo largo dell'anno con la penetrazione della radia solare. Questo credo è una buona evoluzione. Io penso che il programma che è stato proposto alle studenti corresponde ad una domanda attuale. Lo vedo con i debati che si passano con il Parlamento del Parlamento di Parigi 2050 per esempio. L'assurare l'évaccio e l'extension dei bambini esistenti répondendo ad una domanda. Quindi si può immaginare che il progetto e i progetto e i progetto che sono presenti con la più grande qualità può essere veramente in oeuvre in le terreno che hanno chiesto per gli studenti. Grazie a tutti.